Sì, bene, ci ritroviamo ora con l'infermiera più trendy del reparto e qui ho per te un bel gioco ora, ho appena finito il turno, c'è un po' di confusione dentro ho finito di disinfettare i giochi e mi è rimasta qui ecco una pallina, che è una pallina rossa e mi piaceva farti vedere un bel gioco con questa pallina rossa va bene rossa, se no la metto via va bene, allora la facciamo rossa si prende la pallina rossa, la mettiamo nella mia mano si soffia, sparisce, strofiniamo, ritorna ancora una volta, la prendo, la metto qua dentro provo a soffiare, sparisce, strofiniamo, soffia, ritorna e il gioco è soltanto con una pallina perché io potrei fartelo con una seconda pallina cioè con questa qui però la cosa, cioè, perderebbe un po' di fascino quindi facciamo che il gioco lo facciamo esclusivamente con questa la mettiamo qua dentro, così io la tiro e la pallina va di là posso far finta mi metto in una bocca sai che in bocca le cose non si mettono, è pericoloso perché te lo insegno io si metto dietro l'orecchio, sempre anche quando le metto del bilasone, le palline faccio finta sempre dietro l'orecchio sono quindi una, una, due questa la mettiamo in tasca, così e riprendiamo l'altra dall'orecchio ti chiedo di aprire la mano strofiniamo, così e facciamo comparire due palline una, una, due apri anche l'altra mano ottimo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci uno, una, due guarda bene cosa succede io prendo questa pallina la metto nella mia mano la seconda pallina la metto nella tua chiudi la mano grazie un po' di polvere magica ci si mette su come prima così giro la mano apri due guarda, si prova a ripetere si prende questa la mettiamo qua così te chiudi la mano questa la mettiamo nella mia mano come prima un po' di polvere magica si mette su te apri due uno, una, due e uno rimane senza fiato e rimane senza parole però se rimaniamo senza fiato essendo attorniato dai infermiere bravissime provano a farmelo ritornare come si fa a far ritornare fiato quando manca? parlare ah basta parlare di ritorno ti ho bisogno di svelare il trucco io ti dico una cosa ma in realtà ne faccio un'altra quando ti dico che la metto in tasca non ce la metto mica faccio finta vedi ti dico vedi Silvia che sta prendendo la metto in tasca non è mica vero che la metto in tasca la tengo in mano poi ti dico chiudi la mano quante ce n'hai qui dentro? due no Silvia ne è capito nulla cioè a fare infermiere sei brava niente da dire ma come spettatrice è proprio zero apri la mano cioè sono tre allora cerchiamo di mettere ordine cioè mettiamo se no non ci si capisce nulla cerchiamo di dare ordine al gioco niente caos ok? uno due tre questa la prendiamo e la mettiamo in tasca giusto? dove l'ho messa la pallina? in tasca? no nella mano cioè in tasca o nella mano? prendendo la decisione chiara no non c'è nella mano dove è la pallina? nell'altra mano no non c'è nella tua mano non voglio dire lo dicono i bambini fin quei anni e pensati prima di parlare dove è la pallina? pensati dove è la pallina? nell'orecchio in bocca non no ma scherzavo dell'orecchio guarda allora la seconda invece la prendiamo la mettiamo qua dentro la terza la mettiamo in tasca la mia domanda unica ed irripetibile quante palline sono qui? tre vabbè cambiamo gioco cambiamo gioco un'altra volta un'altra volta un'altra volta una, due, tre giochi al tombola te sì grazie grazie prego